L'appello è a tutti gli adulti, non solo ai genitori di quei bambini, a tutti gli adulti che esempio stiamo odiando. Riusciamo a contenerci quando c'è da fare, magari abbiamo delle nostre reciproche, magari divergenze. Riusciamo a ragionare con calma e pacatezza dei temi della città o bisogna sempre buttarle in rissa, sempre in manifestazione, sempre in firme di cose che non vanno bene. Questo è il frutto. I bambini guardano e fanno anche loro, imitano. Imitano i film, imitano internet. Queste cose qua non si può soltanto capirle e comprendere, ma bisogna anche punirle. Io ho chiesto fortemente alla questura, alla procura, soprattutto alla magistratura, di intervenire. Sono intervenuti e voglio ringraziarli, ma non basta. Questo fenomeno oggi l'abbiamo in qualche modo arginato, perché io la fretta non era a colpire o a punire, ma perché non facessero proselitismo, perché nei siti internet questi con la pistola si facevano vedere sopra una pattuglia della macchina della polizia in otto sul tetto, cioè in fotografia poi su internet. I ragazzini vedono e diventa l'eroe negativo, quasi buono, quasi coraggioso. E notte, finissi in guerra. E a Venezia l'abbiamo fatto.